Benvenuti in Albania, una terra che per lungo tempo è rimasta nascosta agli occhi del mondo a causa del suo isolamento durante il regime comunista. Negli ultimi decenni, tuttavia, questa nazione balcanica ha vissuto una straordinaria rinascita, rivelando al mondo la sua bellezza unica. Sempre più viaggiatori, in cerca di esperienze autentiche, stanno scoprendo le meraviglie di questo affascinante paese. Le montagne del paese affascinano per la loro imponente grandezza e varietà. A Settentrione, le Alpi albanesi si innalzano con magnificenza, ammantate di neve per buona parte dell'anno e presentando sfide avvincenti per amanti dell'avventura. I versanti lussureggianti sono costellati di pittoreschi villaggi tradizionali, dove la vita scorre con un ritmo sereno e genuino. I laghi cristallini dell'Albania sono veri e propri gioielli naturali. Il lago Coman, per esempio, è uno spettacolo mozzafiato, con le sue acque serene che riflettono le imponenti montagne circostanti. Navigando sulle sue acque, è facile lasciarsi affascinare dalla tranquillità dell'ambiente e dalla bellezza incontaminata delle sue rive. Inoltre, altri laghi come il lago di Scutari, il più grande dei Balcani, e il lago di Ocrida, condiviso con la Macedonia del Nord, sono mete molto apprezzate. Questi laghi offrono numerose opportunità per attività acquatiche e momenti di contemplazione, immersi nella straordinaria natura albanese. L'Albania, situata nel sud-est dell'Europa, nella regione dei Balcani, confina con Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord e Grecia. Con una superficie di circa 29.000 km2, è un paese relativamente piccolo, ma sorprendentemente variegato dal punto di vista geografico. Le maestose Alpi dinariche si ergono maestose, mentre le splendide spiagge lungo il Mar Adriatico e il Mar Ionio offrono uno spettacolo naturale mozzafiato. Le montagne albanesi, ricoperte da foreste incontaminate, sono attraversate da fiumi limpidi, cascate spettacolari e laghi dalle acque turchesi. La costa, invece, è caratterizzata da distese di sabbia dorata e scogliere irregolari, che creano un paesaggio marittimo unico e affascinante. L'Albania, con una popolazione di circa 2,8 milioni di abitanti, si distingue come uno dei paesi meno densamente popolati d'Europa. Una grande quantità della popolazione vive in aree urbane, con la capitale tirana che ospita circa 400.000 persone. La fusione di bellezze naturali, varietà geografica e un patrimonio culturale ricco rende l'Albania una destinazione straordinariamente affascinante da scoprire. Ora che abbiamo esplorato la sua posizione e le sue caratteristiche, possiamo immergerci nella sua affascinante storia. L'Albania vanta un passato ricco e complesso, segnato da periodi di splendore, crisi e rinascita. Con radici che affondano nell'antica civiltà illirica, questo paese balcanico possiede un patrimonio culturale che si estende per millenni. Nel corso dell'antichità, l'Albania fu al centro delle dominazioni romana, bizantina e ottomana, ognuna delle quali ha lasciato tracce indelebili nell'architettura, nelle tradizioni e nell'identità del popolo albanese. La lotta contro gli invasori stranieri divenne un segno distintivo della nazione, con figure eroiche come Scanderbeg, a guidare la battaglia per l'indipendenza nel XV secolo. Dopo secoli di dominazione, l'Albania riuscì finalmente a conquistare la propria indipendenza nel 1912, stabilendosi come monarchia. Tuttavia, la neonata nazione fu presto travolta dai conflitti delle guerre balcaniche e della Prima Guerra Mondiale, affrontando gravi problemi di instabilità politica ed economica. L'avvento del regime comunista sotto la guida di Enver Hoxa nel 1944 segnò un periodo particolarmente oscuro nella storia albanese. Il paese si isolò completamente dal resto del mondo, adottando una politica di autosufficienza e repressione fino alla caduta del regime nel 1991. Da quel momento, l'Albania ha intrapreso un percorso di trasformazione, rinnovando la sua economia e le infrastrutture, e riprendendo il suo posto nella comunità internazionale. Malgrado le numerose difficoltà, il paese ha mostrato una straordinaria capacità di resistenza, riuscendo ad adattarsi ai tempi moderni senza mai rinunciare alle sue antiche tradizioni. Tra le numerose tradizioni spicca il dita Everest, noto anche come il giorno di primavera. Questa celebrazione vivace e colorata segna l'inizio della stagione più attesa in Albania. Festeggiata generalmente il 14 marzo, vede le persone scendere in strada per accogliere la primavera, lasciandosi alle spalle i freddi e bui mesi invernali. Il dita Everest ha radici profonde nelle antiche tradizioni pagane, quando le comunità agricole celebravano la rinascita della natura e il ritorno della fertilità alla terra. Quando parliamo delle tradizioni albanesi, è impossibile non menzionare le loro danze tipiche, un autentico gioiello culturale tramandato di generazione in generazione. La valle Schiptare rappresenta un'espressione vibrante di gioia e senso di comunità, caratterizzata da movimenti vigorosi ed energici che catturano l'attenzione e coinvolgono tutti i partecipanti in un ritmo irresistibile. I danzatori indossano costumi tradizionali dai colori vivaci, che variano da regione a regione e riflettono elementi della vita quotidiana, della mitologia e del folclore albanese. Tirana, la vivace capitale dell'Albania, si trova nella regione centro-occidentale del paese. Con una popolazione di circa 420.000 abitanti, è la città più grande e dinamica del paese. Fondata nel XVII secolo come un piccolo villaggio, Tirana ha attraversato secoli di trasformazioni fino a diventare un importante fulcro politico, economico e culturale. Un aspetto particolarmente affascinante di Tirana è la sua architettura variegata. La città offre una straordinaria combinazione di stili, dagli edifici ottomani alle strutture dell'era comunista, fino alle costruzioni moderne. Il cuore della città è Piazza Skanderbeg, dedicata all'eroe nazionale albanese. Questa piazza vivace ospita alcuni dei più importanti edifici della capitale, tra cui il palazzo presidenziale, la moschea Etten Bay e la torre dell'orologio. Bastano pochi minuti di passeggiata nella capitale per rendersi conto del fascino particolare delle donne albanesi. È difficile definire esattamente cosa lo renda così speciale, ma è innegabile che eserciti un'attrazione unica. Le donne albanesi sono spesso riconosciute per la loro grazia ed eleganza, con tratti del viso delicati che emanano una bellezza naturale e radiosa. I loro volti presentano una combinazione armoniosa di caratteristiche europee e mediterranee. Zigomi dolci, labbra piene e occhi espressivi che riflettono la profondità della loro anima e determinazione. I capelli delle donne albanesi sono altrettanto notevoli, spesso portati lunghi e setosi, arricchiti da riccioli delicati o onde naturali, che aggiungono un tocco di femminilità e raffinatezza. Alcune preferiscono stili più semplici e pratici, mentre altre scelgono acconciature più elaborate che esprimono la loro individualità e senso dello stile. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio straordinario attraverso l'Albania. Se vi è piaciuto il nostro video, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace. Non dimenticate di cliccare sul video che appare ora sullo schermo, sono certo che troverete il contenuto interessante. Ci vediamo nel prossimo episodio.